42, votanti 394, rastenuti 48, maggioranza 198, favorevoli 109, contrari 285, la Camera respinge. Siamo al 7.20, i borghesi, se nessuno chiede intervenire, parete contrarie, l'atore del Governo, la votazione aperta. Gallo Riccardo, Losacco, Baruffi, Capelli. Hanno votato tutti? No. Bene, una minuccia ha votato. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 446, votanti 433, rastenuti 13, maggioranza 217, favorevoli 48, contrari 385, la Camera respinge. Passiamo adesso, se nessuno chiede intervenire, al voto sull'articolo 7, la votazione è aperta. Votiamo l'articolo 7. Gregori, Piepoli, Lauricella, Losacco, Toninelli, Bene, mi pare che a questo punto hanno tutti votato bene e possiamo chiudere la votazione. La votazione è chiusa. Presenti 446, votanti 290, stavuti 156, maggioranza 146, favorevoli 285, contrari 5, la Camera approva. Siamo ora all'articolo 8. Lo votiamo direttamente perché non vi sono emendamenti. Se nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Articolo 8. Gregori, Greco, Sandra Savino, Pannarale, Grazie. Grazie.